ciao ciao a tutti bentornati nel mio canale oggi tutorial in collaborazione con il sito cobeads andremo a realizzare insieme il pendente zelda ed eccolo qua materiali molto semplici che abbiamo tutti in casa il risultato è davvero molto carino e luminoso soprattutto ho utilizzato perle da 8 cipollottini da 4x3 in due colorazioni diverse rivoli da 12 mm swarovski e poi il rocaille 11.0 e 8.0 della miyuki adesso vi mostro in dettaglio i materiali utilizzati dal sito di cobeads questo il retro della lavorazione io spero che sia di vostro gradimento vi lascio al materiale e vi lascio ovviamente al tutorial ciao il materiale è il seguente innanzitutto un rivoli swarovski da 12 mm lo scelto nella colorazione emerald questo il codice sul sito di cobeads poi ho scelto le perle da 8 mm in questa bellissima colorazione poi ho utilizzato i cipollotti da 4x3 mm questa è la prima colorazione che l'emerald e poi ho utilizzato anche la seconda colorazione che questo bellissimo blu elettrico poi per quanto riguarda l'ero kyle ho utilizzato quelle della miyuki entrambe nella medesima colorazione cioè la 42 02 della miyuki sia 11 0 e sia 80 poi ovviamente vi lascio tutti i link dell'info box per quanto riguarda il filo ho utilizzato il filo monofilamento di nylon da 0,16 mm e come ago ho utilizzato un pony misura 12 per quanto riguarda i link ve li lascio in descrizione insieme al codice sconto buon tutorial primo passaggio inserite sul vostro ago e sul vostro filo esattamente alternati un cipollottino e una rocaille della miyuki 11 0 faccio questo per cinque volte alterno il cipollottino alla rocaille chiudo la lavorazione a cerchio rientro in tutte le perline ed effetto tre nodini ed ecco qui il risultato adesso fuoriesco esattamente da un cipollottino ed eccolo qua inserite due rocaille 11 0 sul vostro ago e rientrate nel cipollottino che viene subito dopo cioè questo qui e tirate sempre per bene il filo di nuovo due rocaille e rientrate nel cipollottino che viene subito dopo ovviamente questo passaggio va fatto fino alla fine del giro questo è il risultato l'ultima coppia di perline inserite sono queste due sono ripassata anche nel cipollottino e nella prima rocaille di questa coppia adesso inserite una rocaille 11 0 e rientrate nell'altra rocaille accanto nel cipollottino anche in questo modo e vado a ripetere ovviamente questo passaggio quindi ripasso in questa rocaille inserite una nuova rocaille sul vostro ago e rientrate nella rocaille e nel cipollottino e anche nella rocaille che viene subito dopo per ovviamente rifare questo passaggio quindi vado avanti con questa lavorazione fino alla fine del giro questo è il risultato questa è l'ultima perline inserita sul nostro lavoro mi sono infilata appunto in questa 11 nel cipollottino in queste altre due rocaille 11 0 adesso inserite questa sequenza 2 11 un cipollottino e 2 11 e rientrate sempre nella perlina questa qui della punta che viene subito dopo ed ecco qua proseguo con questa lavorazione ovviamente fino alla fine del giro questo è il risultato le ultime perline inserite sono queste qui poi sono ripassata nella 11 e nuovamente nelle due 11 cipollottino e questa rocaille qui accanto al cipollottino adesso inserite una rocaille 8 0 saltate queste tre perline e rientrate in questa rocaille qui e di nuovo il cipollottino quindi ripassate anche nella rocaille accanto di nuovo una 8 0 saltate queste tre e rientrate nella 11 cipollottino 11 fate questo passaggio per tutto il giro questo è il lavoro al momento abbiamo inserito appunto tutte le 8 0 questa è l'ultima 8 0 poi sono ripassata nella 11 cipollotto 11 e di nuovo nella 8 0 infatti il mio filo fuoriesce da questo 8 0 qui adesso prendete un rivoli svaroschi da 12 e andate a stringere il filo in questo modo adesso io mi ritrovo ovviamente in questa 8 0 qui inserite 4 rocaille 11 0 sul vostro ago ed eccolo qua e rientrate nella 8 0 che viene subito dopo cioè questo di nuovo 4 rocaille 11 0 e rientrate nell'auto zero che viene subito dopo ovviamente andate avanti fino alla fine del giro rieccomi questo è il risultato ho incastonato appunto il nostro rivoli questo come si presenta in tutti i laterali poi una volta inserite tutte le perline queste quattro perline mi sono rinfilata appunto nell'auto 0 sono ripassata in quest'ultimo giro altre due volte in modo da stringere per bene il mio lavoro adesso fuoriesco esattamente sono ripassata appunto in queste quattro perline 11 0 in questa 8 e poi sono ripassate in questa 11 cipollottino 11 infatti mi ritrovo a fuoriuscire da questa 11 qui che vi sto appunto indicando con l'ago adesso inserite sul vostro ago una 11 una 8 e una 11 e rientrate sempre nella 11 cipollotto 11 che viene subito dopo cioè queste qui e si va a creare il nostro picco questa lavorazione ovviamente vado a farla per tutto il giro quindi continuo inserendo appunto 11 8 11 e rientro sempre nella 11 nel cipollotto e nella 11 continuo e ritorno da voi questo è il risultato abbiamo formato appunto questa graziosissima stellina adesso le ultime perline inserite sono queste qui 11 8 11 mi sono rinfilata appunto in questa 11 cipollotto e 11 0 adesso vado avanti senza inserire alcuna perlina infilo nella 11 e nella 8 mi rinfilò anche in queste due 11 nel cipollotto in questa ripasso in questa 11 e mi rinfilò anche in quest'altra 11 0 e tiro bene il filo e quindi riesco appunto da questa 11 0 prima della 8 0 a questo punto inserite 3 11 0 una perla da 8 e 3 11 0 questa è la sequenza e adesso rientriamo in queste perline in queste due 11 e il cipollotto e di nuovo in queste due 11 quindi rientro in queste perline nel cipollotto e anche nelle altre due 11 ok tiro bene il filo e questo è il risultato al momento ovviamente questa lavorazione vado a farla anche in questi altri quattro punti rieccomi questo è il risultato inserito appunto le cinque perle adesso questa è l'ultima sequenza inserita mi sono appunto rinfilata in queste due rocaille il cipollottino e le due rocaille infatti mi ritrovo a fuoriuscire da questo punto adesso risalgo in queste tre rocaille 11 0 appena inserite stringete bene il filo ripassate anche nella perla ripassate anche nelle altre due rocaille 11 0 sotto e poi ripassate nella 8 0 e nelle 3 rocaille 11 0 dell'altro lato prima di inserire altre perline vado 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 a fare questo passaggio quindi ripassano le tre e scendo nella 8 risalgo nelle 3 ripasso ovviamente anche nella perla questo passaggio ovviamente crea stabilità a quest'ultimo giro dove sono appunto le perle da otto ecco qua questo è il risultato adesso ovviamente riscendo in una rocaille 11 0 inserite una 11 il cipollottino era 11 e rientrate in questa rocaille 11 0 e nella perla che avviene subito dopo ed ecco qua ovviamente continuo con questo passaggio quindi ripasso nella 11 di nuovo una rocaille 11 0 un cipollottino e una rocaille 11 0 e ripasso nella 11 e nella perla poi ripasso nuovamente nella 11 e vado avanti con questa lavorazione questo è il risultato ed eccolo qua l'ultima sequenza inserita è questa 11 cipollotto 11 mi sono infilato appunto nella 11 nella perla in queste due 11 0 adesso vado a creare il picco quindi una 11 una 8 e una 11 e rientro nelle due 11 salto il cipollotto e rientro nelle due 11 e anche nella perla adesso ripasso in queste due 11 per rifare nuovamente il medesimo passaggio quindi una 11 una 8 e una 11 e rientro nelle due rocaille 11 0 e nella perla ovviamente vado avanti con questa lavorazione fino alla fine del giro questo è il risultato adesso come vedete fuoriesco dalla perla l'ultima sequenza inserita è questa qui 11 8 11 sono ripassata in queste due 11 e nella perla adesso inserite una 11 un cipollottino e di nuovo una 11 questa è la sequenza ho ricambiato di nuovo colore di cipollottino e mi rinfilo nella 8 0 questa in punta in questo modo tirate bene il filo di nuovo una 11 un cipollottino e una 11 e rientrate nella perla solo nella perla e tirate bene il filo in questo modo proseguo così fino alla fine del giro questo è il risultato ho aggiunto appunto tutti i cipollottini e questo è il risultato al momento questo il retro e come vedete la parte dove ho aggiunto i cipollotti è un pochettino ondulata questa parte qui finale quindi adesso andremo a fare un ulteriore passaggio io fuoriesco esattamente da questa locale qui vicino appunto alla perla da 8 l'ultima sequenza inserita è questa qui della locale cipollotto locale mi sono infilata nella perla e anche nella prima locale questa qui in basso e non questa della sequenza quella accanto questa qui infatti poi esco da questo punto inserite 3 locale 11 0 e rientrate esattamente nel 80 in questa la prima 80 della lavorazione e non questa dell'incastonatura questa qui questa 80 qui quindi tirate bene il filo di nuovo 3 locale 11 0 e rientrate in questa locale e nella perla da 8 in questi due locale e perla tiro bene il filo di nuovo fuoriesco da questa locale qui accanto alla perla altre 3 locale 11 0 e rientro nella 11 0 e nella perla questo passaggio serve appunto per creare maggiore stabilità al modulo e come vedete non va a modificare la forma dei passaggi precedenti quindi continuo ad inserire queste perline e ritorno da voi questo è il risultato inserito appunto tutte le perline e come vedete questo è il retro della lavorazione adesso vado a realizzare il penultimo passaggio vado a ripassare nel bordo esterno della lavorazione dove sono presenti i cipollotti quindi ripasso in tutte queste perline esterne senza inserire alcuna perlina quindi ripasso in tutte queste perline esterne nel bordo rieccomi questo il risultato sono ripassata negli ultimi giri due volte io ho anche aggiunto queste serie o kyle qui in alto per realizzare appunto il cappietto sono fuoriuscita da questo cipollottino qui verde ho aggiunto le serie o kyle e sono ripassata in quest'altro cipollottino adesso vado a bloccare il filo ripasso nuovamente anche nella solina per bloccare il tutto e poi taglio il filo in eccesso ed ecco qui il pendente zelda terminato davvero molto molto carino e luminoso aggiunto anche il gancetto in acciaio questo è il retro della lavorazione risulta bella compatta e rigida io spero che sia di vostro gradimento lasciatemi un like e un commentino io come sempre vi saluto un bacione e alla prossima con nuovi tutorial ciao